Ciao a tutti gli amici di Viaggiando, la cartolina di oggi arriva da Stoccolma, da dove Mary ci vuole augurare un buon Natale e un buon anno. Ciao a tutti gli amici di Viaggiando, sono Mary, guida di Stoccolma e titolare di Stoccolma con Mary. Ci siamo sentiti tempo fa, quando vi avevo raccontato cosa vedere a Stoccolma e alcune curiosità sulla cultura svedese. Di solito il periodo pre-natalizio nella capitale svedese è uno dei migliori in assoluto con i marchettini di Natale, i festeggiamenti di Santa Lucia, con i lussebullar che sono queste brioche allo zafferano di Santa Lucia, i biscottini allo zenzero, eccetera. Ovviamente gli eventi di questo periodo sono stati annullati a causa del Covid ma vi volevo raccontarvi un'iniziativa particolare che hanno organizzato quest'anno che ha però poco a che fare con il Natale, infatti ha a che fare con i premi Nobel. Il 10 di dicembre di ogni anno di solito vengono consegnati i premi Nobel a Stoccolma e a Oslo. Quest'anno, per ovvie ragioni, la cerimonia di consegna e festeggiamenti sono stati annullati e i vincitori hanno ricevuto a casa la medaglia e il diploma. Per ricordare questo importante evento a Stoccolma sono stati creati dei spettacoli multimediali ispirandosi ai vincitori dei premi Nobel di quest'anno e questi spettacoli sono stati proiettati per una settimana circa sui principali edifici della capitale svedese. Io personalmente ho visto quello che hanno proiettato sul municipio di Stoccolma che si chiama Space, questo progetto, ed è un omaggio al premio Nobel della Fisica di quest'anno. Il motivo per cui è stato scelto il municipio, tra gli edifici più importanti della città, è perché di solito all'interno del municipio avviene la cena e il ballo di gala dopo la consegna dei premi Nobel. Questo è tutto, vi auguro un buon Natale e speriamo anche un buon 2021 e vi aspetto ovviamente a Stoccolma appena la situazione ce lo permetterà. Hej då!